C'è una parola che quasi non si usa più, le bechine, la bechina, era la parola un po' dispregiativa che veniva utilizzata dai laiconi ma anche dai ragazzi, semplicemente dalle persone normali in presenza di una persona, di una signora, di una vecchina che era molto pia, forse troppo pia quelle antiche donne, forse una nonna così ce l'abbiamo avuta un po' tutti che appena sentivano una parola cattiva o vedevano dicendo, oddio, così offendiamo nostro signore le bechine, quelle che reagivano con una religiosità comprensibile però forse eccessiva adesso non ci sono più quelle bechine lì ma ci sono le bechine woke, le bechine politicamente corrette quelli che facevano tanti progressisti, gli uomini e le donne di mondo, sono diventati come le bechine appena dici una parola che non gli va bene, non si può dire, non si può fare è questa l'indignazione permanente, questo stato di ipersensibilità, questa disposizione a offendersi per tutto, a vedere tutto quello che a loro non piace come una specie di offesa alla loro umanità e sensibilità, fa semplicemente ridere. esempio, allora a Torino è in corso diciamo chiaramente una cafonata, va bene, facciamo una risata, è stato chiamato slap contest, cioè sfida degli schiaffi, c'è una gara sia maschile sia femminile, diciamo chiaramente due cafonate, gli uomini si sfidano a schiaffi sul viso e chi vince vince, chi perde perde, poi c'è anche una versione femminile in cui due signore o due signorine si devono sculacciare e come dire si vince per cedimento a Torino. È evidentemente una cafonata trash sul lato maschile, trash più vagamente erotica sul lato femminile. È evidente che ci sono cose più eleganti e più qualificanti al mondo, ma a vedere una serie di associazioni femminili che dicono, no, offesa alla nostra sensibilità. E questa mattina sulla stampa un pippone per dire la reificazione della donna, dove, dove andremo a finire, che cosa dovremo vedere ancora? E datevi una gabbata. Allora, è una cafonata, ok, ma la vostra pesantezza, la vostra attitudine a trasformare tutto in un crimine contro l'umanità fa sì che anche una critica seria faccia ridere. Fate ridere, datevi una calmata, respirate, fate un sorriso. Non è che una cosa che non piace a voi e che magari è oggettivamente brutta diventa uno sfregio, un crimine da portare al Tribunale dell'AIA.